per il Corpo della Guardia di Finanza e 250 unità per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Semplicemente per dire che abbiamo perplessità rispetto alla norma relativamente alla definizione di produttore di rifiuti, raccolto e deposito temporaneo del Codice dell'Ambiente, perché riteniamo che la perplessità consiste nel fatto che l'estensione di questa norma è tale che vi possano essere incluse anche le stazioni appaltanti per le attività condotte appunto dagli appaltatori. Per questo, per tutto quello che noi abbiamo finora qui esposto, l'Area Popolare esprime un giudizio positivo, seppure con alcuni rilievi critici rispetto a questo provvedimento, e diamo il nostro voto favorevole. La ringrazio il collega Palese, prego. Il gruppo di Forza Italia, signor Presidente, voterà contro questo decreto legge. Voterà contro per una serie di considerazioni, cioè che in un intervento di oltre 30 minuti che abbiamo fatto in discussione generale ieri è ampiamente dimostrato. E che qui su alcuni punti noi torniamo. Nessuna esigenza allo Stato attuale delle cose perché il Governo procedesse attraverso decreto legge. Sarebbe stato corretto un decreto legge sulla finanza locale e sugli enti territoriali, cioè così come nel passato era stato fatto, cioè più volte, se il tutto fosse stato varato nel mese di gennaio, all'inizio dell'esercizio finanziario. Avrebbe avuto un senso. Siamo contro, perché è totalmente anticostituzionale. Avendo la Corte Costituzionale più volte, ripetutamente, anche di recente, sancito, cioè che i decreti legge, cioè che poi diventano omnibus e quindi con materie eterogenee rispetto all'oggetto di cui si tratta, sono chiaramente classificati come anticostituzionali. Penso che l'aspetto più importante e più determinante all'interno del merito di quello che si è discusso debba essere concentrato in riferimento agli enti territoriali. Ebbene, che cosa prevede questo decreto per gli enti territoriali? Dà un ulteriore c'è colpo alla confusione e alla differenzazione all'interno, cioè della pubblica amministrazione e degli enti pubblici all'interno del nostro Paese. Il Governo e la maggioranza di sinistra non erano per niente contenta del danno già che è stato fatto dal punto di vista dell'attuazione delle modifiche del titolo quinto della Costituzione. Non era per niente sufficiente tutto quello che è stato determinato con il decentramento amministrativo e con il contenzioso tra lo Stato e le Regioni, tra le Regioni e lo Stato e viceversa, tra tutti gli enti territoriali e le Regioni e lo Stato e quant'altro. Ma ha introdotto altre distorsioni. Quindi non solo la rottura dell'unità legislativa, non solo la rottura dell'unità amministrativa all'interno del Paese, ma tante altre differenzazioni. Per anni abbiamo assistito alla barzelletta del secolo e noi pretendiamo rispetto in Europa. Noi dobbiamo conquistarcelo il rispetto in Europa attraverso il riordino della finanza pubblica e attraverso il rispetto del 3% e non basta quello, perché nel momento in cui noi adottiamo nell'ordinamento il patto di stabilità a partire dalla legge di stabilità del 1999 e poi fino al 2008 non è stato mai applicato da nessun comune, da nessuna provincia e quasi da nessuna regione ed è stato scoperto quando? Nel 2008 quando si sono messe le sanzioni. Ma anche qui abbiamo ulteriori distorsioni perché classifichiamo alcuni comuni che lo debbano rispettare, altri in base agli abitanti che non lo debbano rispettare. Cioè cambiamo, disarticoliamo sempre di più il sistema delle autonomie. Ma si è aggiunta una chicca che mancava, perché se c'era una cosa che per il momento ha tenuto, anche con gravissime anomalie, erano le date di determinazione, cioè del bilancio di previsione, entro cui gli enti locali dovevano adottare l'atto del bilancio di previsione. Ebbene, noi avevamo assistito anni fa a un'anomalia incredibile, cioè che il bilancio di previsione, la data fu per gli enti territoriali, per i comuni in particolare, fu prorogata fino alla fine di novembre, che diventò un conto consuntivo più che un bilancio di previsione. Ma non si era mai assistito a quello che il Governo ha varato giorni fa. E cioè che cosa? Noi abbiamo una data che è fissata al 30 settembre per le aree metropolitane e per l'ex province divenute ore a varie vaste, che è il 30 settembre. Poi abbiamo per tutto il resto, cioè dei comuni e del sistema, il 30 luglio. Ma siccome era troppo poca questa differenza, il Governo, per completare l'opera, ha introdotto un'ulteriore anomalia. E cioè tutti i comuni della regione siciliana possono presentare il bilancio di previsione, avendo come data ultima scadenza il 30 settembre. Quindi abbiamo completato l'opera in riferimento a questo. Ma al di là di tutte queste anomalie che sono state abbastanza segnalate, penso c'è che l'altro elemento su cui bisogna tornare è che il Governo ha perso un'ulteriore occasione per cercare di tentare, ma solo di tentare, di porre riparo al disastro della riforma del rio della riforma delle cosiddette province. E anche qui, invece di avere e di attuare il risparmio che era stato concordato con l'Unione Europea di un miliardo di euro di diminuzione dei costi attraverso la soppressione delle province, cosa che per via costituzionale non è ancora avvenuta, che cosa c'è successo? C'è che non si ha notizia di questo risparmio, ma peggio ancora c'è una confusione all'interno della gestione delle ex province che dal punto di vista finanziario è diventata preoccupante e paurosa per i conti pubblici del nostro Paese, altro che il risparmio di un miliardo di euro. Noi abbiamo invece una confusione che dal punto di vista contabile, che definire raccapricciante è pericolosissima, è veramente già una grande vena di ottimismo una cosa del genere. Che cosa sta succedendo? Noi non abbiamo solo il problema del personale che è tutto da collocare, 20 mila persone, c'è che un giorno sì e un giorno no vanno a quel ministero, un giorno sì e un giorno no c'è la mobilità d'ufficio, un giorno sì e un giorno no vanno in questo c'è in quell'altro, ma il decreto e i criteri da concordare c'è con le regioni e con le autonomie locali e con province. Il governo quando lo fa? Perché quello è il punto fermo su cui poi bisogna costruire tutte le ipotesi di mobilità volontaria o d'ufficio o quel che sia c'è per i 20 mila. Finora c'è inadempiente su questa situazione il governo e le regioni che non hanno ancora ricepito la legge del Rio per quello che riguarda la ripartizione delle funzioni all'interno stesso della propria regione tra comuni e ex province e regione, hanno come pretesto esattamente questa inadempienza da parte del governo, cioè che il decreto che non viene varato e che quindi loro non possono procedere rispetto a quella che è l'attuazione. Anche qui bisogna cercare di avere un non coordinamento, bisogna fissare dei tempi. Troppo debole è quello di scaricare di nuovo nei confronti delle regioni le eventuali sanzioni e penalità. Se non fate la legge di ricepimento, allora vuol dire che il personale della provincia stesso, cioè che non viene collocato, è a carico delle casse delle singole regioni che non attuano la legge del Rio. Ma così non è possibile andare avanti, scaricare sempre e tutte le inadempienze del governo, non solo dal punto di vista dei tagli e contabili che poi debbano aumentare le tasse locali, ma anche e soprattutto in riferimento a quello che riguarda anche questo aspetto abbastanza inquietante della stessa attuazione, il governo è reo di non far attuare la sua stessa legge folle di riforma delle province, ma perché non c'è il decreto che fissa i criteri e sancisce le modalità di collocazione dei 20 mila in esubero rispetto alla situazione della provincia. Ma anche qui si interviene in maniera distorsiva, perché alle città metropolitane, alle aree metropolitane viene data invece la possibilità di poter procedere ad alcune agevolazioni e ad alcuni investimenti. E non è un caso, perché è una scelta politica, quindi dove c'è la volontà politica di incidere lo si fa, dove invece non c'è nessun tipo di volontà si lascia marcire tutto quello che c'è di cattiva gestione all'interno di questo. Ma il disastro noi lo avremo, caro Presidente, nel momento in cui le ex province e le aree vaste saranno costrette a provare i consuntivi della gestione finanziaria del 2015, quando per responsabilità del governo, che non fa l'unica cosa che dovrebbe fare, quella di istituire le gestioni liquidatorie e separare le due gestioni tra le nuove aree vaste, quindi le nuove province, e ciò che è stato delle ex province. Allora noi avremo i bilanci delle province che andranno in dissesto finanziario e per fare coprire il dissesto finanziario dovranno per forza poi procedere, così come prevede il testo unico per i comuni dissestati, con le risorse che sono a carico dello Stato. Per non parlare della sanità e per non parlare del mezzogiorno, a cui, signor Presidente, il tempo è esaurito, cioè è come sparare veramente sulla croce rossa sulla situazione della sanità. Cioè, se c'era uno scempio da fare, questo decreto lo prevede, perché non si incide andare a cercare di recuperare sulle spreche e sulla corruzione dei beni e servizi, ma invece si preferisce andare sulle prestazioni cercando di dire che debbono essere appropriate. Ci mancherebbe pure che non debbono essere appropriate le prestazioni all'interno della sanità e anche sulla situazione del mezzogiorno. Viene spacciato questo decreto legge come un'anticipazione della legge di stabilità. Bene, il mezzogiorno continua a essere dissestato, ignorato e vilipendiato da questo Governo, perché se questa è un'anticipazione, questo decreto della legge di stabilità per il mezzogiorno, ancora una volta non si prevede proprio nulla. Grazie. La ringrazio, collega Palese. Adesso la collega Castelli. Prego. Sì, grazie Presidente. Ormai sono due anni che dentro questo posto assurdo abbiamo capito quanto sia inutile stare a dirvi certe cose. Quanto è deleterio essere un cittadino eletto dalla Repubblica italiana, obbligato a lavorare in soli due giorni su un decreto che ne meriterebbe almeno dieci. Ci siamo resi conto di quanto questo Governo giochi con la Costituzione e sa come ce ne siamo accorti, oltre che esercitando la nostra onestà intellettuale che voi chiaramente avete perso da tempo e che ha preso il posto del vostro portafoglio. Collega, per favore, si rivolga alla Presidenza così? Grazie. Ce ne siamo accorti perché andando per strada a incontrare i cittadini, se lei racconta cosa succede in queste ore e quindi racconta che c'è il decreto del Governo e non c'è una proposta di legge, che c'è la fiducia e non c'è la discussione costruttiva in Aula di emendamenti, che ci sono i tagli della sanità e che c'è il continuo giocare sulle vite dei cittadini, sentirà un solo commento a tutto questo. Il commento è dittatura. È dittatura quando il sottosegretario Baretta ieri in Aula diceva...